Per ex sindaco di Riace, Lucano, condanne in appello a un anno e sei mesi, cadono le accuse principali. Crollano in appello le accuse contestate all'ex sindaco di Riace, Domenico Mimmo Lucano. I giudici della Corte d'Appello di Reggio Calabria, infatti, lo hanno condannato a un anno e sei mesi di reclusione, con pena sospesa contro la richiesta della Procura Generale, di dieci anni e cinque mesi, e stravolgendo la sentenza di primo grado del Tribunale di Locri, che gli aveva inflitto 13 anni e due mesi di carcere per associazione per delinquere, truffa, peculato, falso e abuso d'ufficio. Dalla lettura del dispositivo emerge che la Corte ha assolto Lucano dai reati più gravi. La Corte ha assolto tutti gli altri 17 imputati. La sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, presieduta da Elisabetta Palumbo, è giunta dopo sette ore di Camere di Consiglio e ha riformato profondamente la sentenza del settembre 2021 dal Tribunale di Locri, che aveva condannato Lucano a 13 anni e due mesi di reclusione nel processo scaturito dall'inchiesta Xenia, su presunte irregolarità nella gestione dei progetti di accoglienza dei migranti nel comune di Riace. Lucano è stato condannato per un falso in relazione ad una delibera del 2017, mentre sono stati assolti tutti gli altri 17 imputati del processo, che in primo grado erano stati giudicati colpevoli. L'ex sindaco di Riace era accusato di diversi reati. Il più grave era quello di essere il promotore di un'associazione a delinquere finalizzata, la gestione illecita dei fondi destinati ai progetti Sprar e Cas. Tra i reati contestati dalla Procura Generale e dall'ex sindaco di Riace, anche la truffa aggravata, abuso d'ufficio, diversi falsi e un peculato. Tutti i reati caduti in appello, tranne un falso.